Eccoci qua, eccoci qua, buonasera a tutti, ciao Marina, in mezzo, sembri in mezzo agli ulivi stasera veramente. Ciao, buonasera, ciao a tutti. Buonasera, om shanti a tutti, vedo tanti om shanti quindi vuol dire che c'è tanta gente che già ha idea di chi siamo e che cosa facciamo. Benvenuti e chi è la seconda volta che è con noi, bentornati, davvero bentornati di cuore e questo è il secondo webinar che facciamo con Marina, vi dico un attimino un paio di cose che possono essere comunque interessanti, sarà questo il secondo di cinque, quindi faremo cinque webinar, quindi altri tre dopo questo, per poi andare verso l'estate e se possibile fare poi un ritiro insieme che svolgerà un pochino questi temi che abbiamo affrontato in questi cinque webinar. Se invece non sarà possibile fare un ritiro insieme in presenza perché per tanti motivi che in questo momento veramente non si sa, non si sa niente con precisione, lo faremo online e quindi sarà poi un motivo per stare insieme un sabato e una domenica con anche altri bramini e continuare a portare avanti questo tipo di tematiche che sono veramente all'ordine del giorno, sono importantissime per tutti noi e sono quelle che tante volte ci danno la possibilità di riflettere e di cambiare qualcosa nella nostra vita. Intanto ancora un buon bentornato Marina, una buona sera e grazie di fare insieme insomma questi webinar che sono veramente interessanti e di un bel approfondimento. Il tema di stasera sarà che significato ha essere qui e che qual è il mio ruolo che avrete già sentito la volta scorsa e poi anche l'avrete letto nelle mail che vi sono arrivate come reminder del fatto che ci saremo stati stasera. Ok, penso che sia una delle domande che da che l'uomo è arrivato sulla terra si pone, che ruolo ho, che significato essere qui, lo faceva il Buddha, lo facevano i pre-socratici, lo facevano proprio veramente tutti quelli che si sono avvicinati a qualche cosa che ha a che fare con il filosofico o piuttosto con il religioso o meglio ancora con lo spirituale. Che ruolo ho, che significato ha essere qui? Ma non essere qui soltanto perché mi tocca e vivo su questa terra, ma essere qui proprio con la consapevolezza di questo significato. Siamo qui, Marina, in questa vita unica, come tante culture e tante religioni dicono e poi finisce tutto qui? Oppure che ci dici su questo, su questa, questa domanda? Nel senso che significato ha e abbiamo ancora un seguito oltre a quello che siamo qui in questo momento? Intanto buonasera a tutti e grazie di avermi ancora con voi. Allora, questa domanda, possiamo dare una risposta a questa domanda prendendo da tante angolazioni diverse. L'angolazione che voglio dare io stasera è un po' diversa da quelle che normalmente vengono presentate. Non è tanto cercare il significato della presenza di questo io sulla terra quanto capire che che significa un ruolo, cioè che vuol dire avere un ruolo. Quando noi ci chiediamo qual è il mio ruolo qua, normalmente intendiamo qual è il mio ruolo in quanto per esempio io, Marina, perché, cosa devo fare nella mia vita, quale obiettivo ho, cosa voglio condividere, anche magari obiettivi elevati, no? Potrei pensare il mio ruolo nella vita, di fare il missionario, il mio ruolo nella vita, di fare il medico, il mio ruolo nella vita, cioè la mia missione. Ecco, presa un po' dall'ottica qual è la mia missione, no? L'angolatura che invece piace dare a me è un'angolatura un po' sicuramente spirituale, ma un po' diversa. Quando parliamo di ruolo, non è la missione che devo avere nella vita, che posso avere, che posso cercare, ma è proprio il ruolo in quanto tale, cioè io, questa entità spirituale, il famoso essere del binomio essere umano di cui parlavamo l'altra volta anche, questo essere interpreta un ruolo, esattamente come un attore interpreta un ruolo in un film. Prendete, per esempio, che ne so, Keanu Reeves in Nio, no? Keanu, quando fa Matrix, Keanu Reeves è Keanu Reeves, ha la sua storia, il suo passato, tutte le sue amicizie, la sua madre, il suo padre, eccetera, eccetera, però quando deve girare Matrix, si veste con degli abiti di un certo tipo, si atteggia in un certo tipo, prende un certo nome, parla in un certo modo, usa un certo tipo di vocaboli, usa un certo tipo di movenze, quindi un ruolo a tutto tondo, un ruolo a tutti gli effetti. smesso coi panni alla sera, quando ha finito di girare, torna a essere Keanu Reeves e con tutta la sua storia. Ecco, io intendo il ruolo esattamente in questo senso. Questo essere del binomio essere umano interpreta un ruolo in un film. La differenza è solo di tempistiche, cioè l'attore Keanu Reeves fa, interpreta il ruolo di Nio un certo numero di ore al giorno e un certo numero di giorni in un anno, dopodiché la produzione finisce e lui non farà più questo ruolo. Per noi, gli esseri del binomio essere umano, questo ruolo che interpretiamo dura molto di più. Dura svariati anni, 24 ore al giorno. A un certo punto finisce questo ruolo, a un certo punto cambia questo ruolo, quello che tu chiedevi poc'anzi, una volta che abbiamo finito questo ruolo che vediamo qui in questo momento, che succede, una volta che abbiamo finito questo ruolo che vediamo qui in questo momento, cioè per esempio io sto interpretando il ruolo di Marina, che ha due figli, che vive a Milano, che insegna meditazione, che si intende di questo e di quello, che ha un certo tipo di caratteristiche fisiche, ma anche interiori. E questo ruolo dura tanto, a un certo punto questo ruolo finirà. È solo questione di tempo, ma prima o poi finirà. E io, l'essere del binomio essere umano, proseguirò la mia strada e prenderò un altro ruolo, esattamente come Keanu Reeves, una volta che finisce la produzione, finisce quel ruolo di mio e farà il ruolo di quell'altro film famoso che ha fatto, che ora mi sfugge il nome. Ne ha fatti tanti. Ne ha fatti tanti, famoso infatti. Dopodiché finirà anche quel ruolo e prenderà un altro ruolo. E così noi, quindi noi, per ogni vita che facciamo, per ogni corpo o per ogni umano, parte umano del binomio essere umano, che facciamo è un ruolo. Quello è il ruolo. Quello è il ruolo che interpretiamo. Il ruolo di un attore in un film. La differenza, naturalmente, è che noi non conosciamo in anticipo il copione. Dobbiamo improvvisare. Siamo molto più bravi degli attori del cinema, vero? Diciamo così. Lo dobbiamo portare avanti anche tutta una vita, quindi anche questo è sicuramente un po' diverso dal cinema. Siamo degli attori che lo portano avanti molto a lungo, che non conoscono il copione in anticipo e che vivono un'avventura estremamente più avventurosa di quella di cui l'attore conosce il copione in anticipo. Dobbiamo improvvisare, dobbiamo adattarci, dobbiamo trasformarci, dobbiamo, come dire, assecondare questa parte di cui non conosciamo i particolari in anticipo. però abbiamo delle caratteristiche che ci permettono di poterlo fare. A questo punto, Marina, mi viene da chiederti, cioè questo è in effetti il ruolo importante da riconoscere e da renderci conto, perché questo ci fa capire quanto noi sulla Terra siamo anche soltanto di passaggio. Però in questo quanto noi ci identifichiamo? Cioè nel senso l'identità che noi prendiamo, come facevi prima l'esempio, un avvocato, un medico, piuttosto che sono un insegnante o qualsiasi altra cosa, o purtroppo, o non purtroppo, o piuttosto, sono un figlio, sono una madre, sono un padre, sono un fratello, una sorella, eccetera, eccetera. Tutte le nostre identità, anche perché ne abbiamo tante nell'arco di una vita e ne abbiamo tante anche nell'arco della giornata. E queste identità fanno di noi il nostro ruolo? O è al contrario che il nostro ruolo è quello che crea tutte queste identità? Diciamo che c'è una relazione bionivoca nel momento in cui gioco inconsapevolmente o interpreto la parte in maniera inconsapevole, c'è una connessione tra i vari ruoli, quindi dottore, figlio, madre, eccetera, marito, moglie, e gli attaccamenti che si sviluppano. L'attaccamento è direttamente proporzionale a due robe. Uno è il tempo. Quanto più tempo sto in quella parte, parlo adesso per un attimo con l'introduzione, ho un ruolo in maniera inconsapevole. Quindi quanto più rimango in quel ruolo, in quella parte, sebbene parziale, perché è una delle tante parti, quanto più tempo ci rimango, quanto più sviluppo attaccamento. E questa è una componente dell'attaccamento, è proprio un effetto del tempo, direttamente proporzionale al tempo. Adesso vi faccio anche un esempio che si capisce bene quello che sto dicendo. E poi la seconda componente importante, credo, quasi quanto il tempo, o comunque, insomma, siamo là, è lo stato in cui, lo stato di consapevolezza. Quanto più sono inconsapevole, quanto più sono debole, e quanto più questo attaccamento è rapido e profondo. L'esempio che, che volevo, non l'esempio, sì, l'esempio di cui stavo dicendo poc'anzi è questo. Immaginate quando guardiamo un film che dura un'ora e mezza. Può essere che ci identifichiamo anche nel giro di un'ora e mezza. Magari piangiamo perché sta succedendo qualcosa di drammatico. Oppure ci dispiace perché il protagonista che piaceva a noi fa una brutta fine, insomma, non doveva finire così. Oppure i due innamorati alla fine si mollano, insomma, ci identifichiamo e insomma, e proviamo delle emozioni direttamente proporzionali ai nostri desideri rispetto alla storia del film, no? Immaginate invece che, questo è un film di un'ora e mezza, così, ma quando si guardano le serie che durano 50 puntate, il top opera, durano anche degli anni, certo. se uno ci fa caso, più puntate guarda e più diventa, più si identifica con uno l'altro ruolo. Con i personaggi. Con i personaggi. e quando finisce la serie e non c'è una vera fine, non vedi l'ora che arrivi la serie successiva per vedere come va avanti. Questo è proprio un esempio che ci fa capire come l'effetto del tempo produce sulla mente un'identificazione sempre maggiore, direttamente proporzionale a quanto tempo, quindi 50 puntate, 80 puntate sarà di più, eccetera, eccetera. C'è molto meno l'aspetto della, in questo caso, l'aspetto della debolezza perché manteniamo comunque una certa consapevolezza sul fatto che sia una serie tv. quindi c'è sempre una consapevolezza del che cosa sto facendo, cioè sto guardando una storia che è finta, che anche se muore il mio protagonista principale non è vero che è morto, è una storia finta, no? Questo succede anche nel film che noi interpretiamo senza conoscere il copione, no? L'effetto La vita, intendi? Sì, l'effetto del tempo si fa sentire sicuramente, quanto più tempo da quanti più anni io sono in quel ruolo quanto più svilupperò attaccamento ma anche la mia particolare predisposizione la mia particolare capacità di mantenere consapevolezza per esempio incontro qualcuno e mi innamoro in questo caso prevale il fattore consapevolezza non ho bisogno di sviluppare di aspettare tanto tempo per sviluppare attaccamento poi comunque funziona perché prendete le coppie che sono stati insieme 60 anni muore lui dopo un mese muore lei o viceversa e ce ne sono tantissime così sì sì leggevo proprio uno studio di che cosa accade proprio per questo tipo di attaccamento e quindi il tempo comunque ha il suo effetto però inizialmente si può sviluppare grande attaccamento anche una persona che si conosce da poco tempo perché si perde completamente la consapevolezza che sono dentro dentro un ruolo no perché si perde la consapevolezza perché ci si fa trascinare dalle emozioni conosci uno che ti piace inizia a dire che ti sei innamorata e perdi completamente la tua consapevolezza cioè non sei più consapevole che sei in un film ma sei totalmente identificato è come se guardando un film uno si innamorasse dell'attore o dell'attrice perde la consapevolezza che quello lì è un attore un'attrice che quella è una pellicola e prova i sentimenti come se fosse lì personalmente e infatti si mette a piangere se quello soffre se muore no è bene osservare se stessi in questi frangenti che tipo di emozioni provo se guardo una serie che dura 50 puntate rispetto a un film che ne dura un'ora e mezza o se non guardo affatto e quindi niente oppure anche se guardo la televisione un sacco tutti i telegiornali tutte le sere che questi parlano prima era il covid poi la guerra poi un'altra scocciatura insomma quanto mi identifico quanto più volte io guardo quanto più mi martellano l'intelletto quanto più io comincio a sviluppare proprio un attaccamento comincio a credere che quella sia veramente l'unica versione possibile si perde quello che si chiama il senso critico si perde la consapevolezza che tu sei un attore in un film bisogna anche dire cose molto più molto più semplici che ci possono accadere tipo per esempio sono stata moglie per dieci anni per esempio e poi c'è la separazione ci sono alcune donne che questo la vivono veramente come un qualche cosa che gli porta uno sconforto enorme perché perché devi cambiare identità se prima eri l'identità moglie adesso sei l'identità separata di una donna separata e a volte faccio questo esempio qua come può essere un licenziamento dopo che sei stato dieci anni a lavorare come insegnante e poi non lo sei più quindi queste identità sono quelle che delle volte ci fanno perdere veramente proprio la cognizione di quello che siamo veramente e torniamo al ruolo cioè quindi quello che siamo a prescindere dall'identità che ci viene data o anche per esempio ecco muoiono i genitori non sei più figlio anche se poi è una di quell'identità che ti porti avanti per tutta la vita in un certo senso però comunque questo cambio delle volte può essere molto 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 difficile da accettare proprio perché si perde di vista oppure non si è mai avuto attenzione a guardare il mio ruolo veramente quindi che significato è e che significato ho giusto? ti trovi con questo? sì 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 il ruolo cioè più precisamente si perde la consapevolezza che quello sia un ruolo e come tale è passeggero finirà ci si convince che sia eterno cioè il fatto che io sia figlia o moglie o padre o marito è un ruolo ed è temporaneo come qualsiasi altro ruolo come marina come pulvia sono ruoli temporanei prima marina aveva i capelli biondi e quello lì era il ruolo un aspetto fisico anche un ruolo al quale ci si identifica fortemente immagina basta vedere adesso cosa fanno soprattutto le donne ma anche gli uomini per restare giovani eh sì 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 questo è diventato questi lifting e tutte queste cose che cos'è quella roba lì l'attaccamento a un'immagine perché gli attaccamenti non sono solo materiali grossolani o marito sono anche attaccamenti sottili di questo tipo alla mia immagine alla mia reputazione per esempio è un attaccamento esatto alle mie opinioni alle mie idee le mie idee il modo in cui io vedo il mondo gli altri sono tutti sbagliati ho ragione solo io sono tutti attaccamenti che noi ci portiamo dietro per un certo numero di anni senza renderci conto che sono temporanei sempre e comunque quando si perde quanto più si perde questa consapevolezza quanto più l'attaccamento diventa radicato profondamente e quindi più difficile da sradicare abbandonare anche riconoscerlo prima ancora di sradicarlo riconoscerlo riconoscerlo esatto allora torniamo invece proprio a quello che può essere più un significato in un certo senso spirituale quindi forse siamo qui per evolvere oppure siamo qui semplicemente per vivere che queste sono sempre ritorniamo a quelle domande millenarie perché veramente l'essere umano penso che da sempre si pone queste domande ma se lo pone anche da giovanissimo ci sono tanti ragazzi giovanissimi che cominciano già prestissimo anche 10 11 anni a farsi questo tipo di domande poi dopo si perdono nel mondo e in quello che devono fare però queste sono domande veramente da avatar cioè quindi veramente ataviche quindi che significato è stare qui che significato ha stare qui ci sono alcune culture che dicono siamo qui perché nasciamo in un certo modo e piano piano poi dobbiamo evolvere per poi accedere a qualcos'altro ci sono altre culture che invece dicono giusto il contrario nasciamo perfetti mano di mano c'è il degrado e poi dopo praticamente accediamo ancora a qualcos'altro che cosa dobbiamo o come capire il significato di essere qui allora io direi che non è o o è un più un e diciamo che l'essere sempre del famoso binomio essere umano ha con sé come una struttura chiaramente non fisica non sto parlando sto parlando in questo caso dell'aspetto spirituale no una struttura che porta con sé che è non trasformabile cioè rimane sempre uguale nel tempo come dicevo l'altra volta lo yin e lo yang luce buio ha questa struttura che si trasforma in accordo all'ambiente immaginate un seme se lo lasci seme rimane seme se lo metti nella terra e non gli fai niente marcisce se lo metti nella terra gli dai la giusta acqua e il giusto sole piano piano germoglierà finché verrà un albero quindi l'essere come il seme ha in sé tutto un bagaglio che però si attiva in un verso o nell'altro in accordo all'ambiente quindi in un certo senso l'ambiente si ti fra virgolette sprona a un'evoluzione cioè a un costante miglioramento ma non da un punto A a un punto B cioè non con l'idea che ero un verme che ne so un ameba e adesso diventerò un essere umano e quando sono essere umano quella è la mia ultima nascita come hanno un po' i buddhisti in un senso più ciclico cioè le prerogative che questo essere ha sono prerogative che possono svilupparsi solo in un corpo umano non in un animale perché così come un seme di albicocco non farà mai nascere un ulivo nascerà sempre un albicocco certo quell'essere che si che si che ha proprio tutte delle modalità intrinseche sue di che poi pian piano si estrinsecheranno che poi pian piano emergeranno ha bisogno la giusta terra la giusta luce e la giusta acqua per l'essere umano la giusta terra e la giusta luce è un corpo umano la capacità di poter parlare delle corde vocali cioè l'essere ha in sé la potenzialità di parlare mentre il cane non ha in sé la potenzialità di poter parlare è un altro tipo di essere l'essere che diventa un essere umano ha in sé la potenzialità di parlare di usare il raziocinio di razionalizzare quindi deve potersi esprimere usando un corpo umano non può farlo in un corpo che non sia umano questo interagisce con l'ambiente nel nostro esempio del seme la terra e l'acqua e in accordo all'ambiente al tempo storico al tipo di società al tipo di famiglia prendendola alla larga tempo storico società famiglia restringendo il campo questo essere esprimerà una o l'altra delle sue potenzialità in un modo o in un altro sempre in accordo all'ambiente esterno che da può essere piccolo come la famiglia e grande come il tempo storico perché noi non è che siamo pioviamo così da Marte belli nuovi e non sappiamo niente noi fin da bambini lasciando perdere la reincarnazione per un momento parlando di una sola nascita fin da bambini ancora prima che nasciamo ci viene dato un nome quindi come diceva Lacan nasciamo già in una logosfera cioè nasciamo già per la prima volta uscendo dal grembo materno noi siamo già inseriti in un ambiente di linguaggio perché ci è stato dato già un nome maschile o femminile in accordo al genere sessuale quindi c'è proprio come un imprinting prima di uscire dal corpo perché la madre e il padre ci chiamano già con quel nome già durante la gestazione appena sanno di che sesso è decidono il nome e cominciano a chiamarlo ma ci sono già ci sono già anche le aspettative da parte dei genitori ma anzi forse da tutti i membri della famiglia proprio le aspettative nei confronti del nascituro sarà questo farà quest'altro lo gestiremo così eccetera eccetera di conseguenza ci sarà già un ambiente per esempio l'uso di certi colori piuttosto che di altri in accordo al genere sessuale l'uso di certi la proposta di certi giocattoli piuttosto che di altri in accordo al genere sessuale e poi man mano anche l'educazione ai maschi viene insegnato che non si piange che è una roba da femmine oppure gli viene dato gli viene insegnato a stare col padre appena un po' più grande a smontare che ne so il rubinetto che si è roto per dire e la bambina invece in cucina in cucina oppure chiede il giocattolo il ferro da stiro il passeggino perché il bambino non è che lo sa che non pensa è giusto o sbagliato imita quello che ha intorno non solo nella sua famiglia ma anche nell'ambiente più allargato per esempio la scuola il nido in cui i bambini vanno da piccolissimi prima dei tre anni poi la scuola materna e la scuola quindi praticamente il bambino arriva a sei anni che è già bello che è formato e lì cosa fa lui lui è costretto costretto non in senso negativo cioè è portato a utilizzare quelle sue prerogative che ritiene essere più confacenti per farsi accettare nel mondo nella società quindi si adegua automaticamente a un certo tipo di sistema e chiaramente non ha la consapevolezza per metterlo in discussione nel momento in cui inizia avere la consapevolezza per metterlo in discussione l'identità è già creata ecco perché è così difficile è già passato un tot di tempo gli attaccamenti sono già partiti no? è certo e quindi cioè quell'utilizzo di queste di queste prerogative intrinseche si sposano con l'ambiente quindi c'è sì una sorta di evoluzione ma non in tutti i casi quindi è più un e-e cioè non è che la vita è lì per farci evolvere la vita fa il suo corso questo film fa il suo corso in questo caso diventiamo spettatori lo spettatore attore lo spettatore ruolo interagisce in accordo alle sue prerogative e utilizza le sue prerogative a seconda di come è l'ambiente quindi non è in realtà che la vita ci faccia evolvere è proprio una danza fra l'ambiente esterno e l'ambiente interno poi ci sono chiaramente dei periodi storici in cui come dire c'è uno scivolamento di massa diciamo così no? una degradazione di massa un degrado e una corruzione totale come quello che assistiamo ora le epoche storiche questo è proprio un esempio perfetto le epoche storiche sono state molto diverse ci sono state epoche storiche di pace epoche storiche di grandi guerre epoche storiche di avanzamento e scoperte sociale scoperte scientifiche per esempio immaginiamo i tempi di Galileo filosofiche per esempio no? varie epoche adesso è un momento di grande sviluppo tecnologico che corrisponde a grande sviluppo tecnologico e grande accumulo di capitale ma allo stesso tempo uno scivolamento in senso degradante molto molto veloce a tutti i livelli quindi è proprio una danza che avviene no? poi ci sono invece i momenti in cui uno comincia a usare la consapevolezza quella che non usava quando ha sviluppato gli attaccamenti è in grado di invertire questo processo di invertire questa tendenza non è che questa tendenza ce l'abbiamo appiccicata addosso e non possiamo farci niente possiamo invertire questa tendenza soprattutto in questo momento certo allora a questo punto Marina quanto è importante capire proprio per questo momento e proprio per tutto quello che abbiamo detto fino adesso quanto è importante capire non soltanto il mio ruolo ma anche quanto sia unico e speciale cioè l'unicità di ognuno di noi penso che sia una delle cose più forse da bambini bisognerebbe insegnarlo e farlo capire proprio in maniera potente e veritiera invece poi ci ritroviamo in genere intorno ai 50 anni alcuni di noi si fanno questa domanda e cominciano anche a lavorare su questo però fondamentalmente quanto è vero il fatto che siamo unici irrepetibili addirittura è stato queste sono le tecniche della scienza delle stringhe definito il fatto che ognuno di noi ha un suono specifico i nostri organi hanno un suono unico e specifico e quindi questo ci fa proprio essere ognuno di noi un esemplare unico in tutto l'universo ma come comprendere una cosa del genere in mezzo a tutto questo marasma per esempio no? è questione di consapevolezza non si può comprendere schioccando le dita da una parte bisogna mi viene la parola in inglese e non in italiano rafforzare o dare più potere alla parte diciamo al nostro intelletto cioè la parte razionale di questo essere la parte in grado di vedere ciò che non è visibile agli occhi fisici o comunque con gli strumenti qualcosa che va al di là no? questo sicuramente perché è l'intelletto che ci permette di comprendere e di dare risposte alla domanda che tu facevi ma anche alle altre domande ma da un'altra parte io ritengo che sia anche necessario essere in grado di utilizzare il nostro senso critico cioè imparare a vedere anche questo film che abbiamo davanti agli occhi usando degli strumenti che ci sono propri non quelli che ci forniscono belle fatti dall'esterno vuoi media vuoi ti interrompo ti interrompo un secondo perché hai toccato un tasto importantissimo il senso critico che credo ecco se torniamo un attimo scusa ti interrompo un secondo perché penso di di darti un un in più a quello che stavi dicendo se torniamo alle ondate di cui parlavi prima una volta ci sono delle cose un'altra volta ce ne sono altre questa è anche un'ondata in cui il senso critico è proprio ridotto ai minimi termini quindi minimi termini è proprio una caratteristica sì sì è proprio una caratteristica di questi tempi e quindi andare proprio a toccare quel punto lì è fondamentale per capire non solo il ruolo ma anche proprio per capire il fatto che siamo unici senso critico noi non è che possiamo stare qua e pensare ah sì io sono unico no cioè noi siamo inseriti in un ambiente siamo inseriti in una storia siamo inseriti in una società siamo inseriti in un modo di produzione dei beni siamo inseriti in un modo di comunicazione cioè se torniamo indietro quando io ero bambina la comunicazione era completamente diversa ma radicalmente diversa perché negli ultimi diciamo 50 anni hanno fatto un dal punto di vista tecnologico c'è stato un progresso enorme che non c'era mai stato nei 2000 anni precedenti quindi il modo di comunicare forgia le menti e troppo spesso ci si dimentica che noi siamo proprio inseriti come in una bolla non solo in una logosfera come diceva Lacan ma addirittura proprio in una bolla comunicativa che non è più solo attraverso il linguaggio è attraverso tutti i media che usiamo tutti che fungono proprio da bombardamento costante volente o nolente anche se non vuoi essere bombardato sei bombardato lo stesso di stimoli di segnali di immagini di proprio una una cifra comunicativa proprio proprio un modo di comunicare che è costruito e organico in sé e sembra slegato ma invece è organico nella società parlo per la società occidentale se tocchiamo altre società cambia il modo ma per il blocco occidentale per la società occidentale c'è proprio un modo comunicativo assolutamente omogeneo con degli obiettivi precisi con proprio tutto studiato a tavolino non è a casaccio ecco perché lo spirito critico è così importante prima di tutto perché permette all'intelletto di ripulirsi e poi perché permette a quelle caratteristiche dormienti di poter esprimersi naturalmente rafforzando l'intelletto uno riesce a capire quanto sia importante quanto sia la propria unicità veramente unica e come relazionarsi in questa bolla comunicativa che cosa accettare ecco si chiama consapevolezza che cosa accettare che cosa rifiutare che cosa porre sotto la lente di ingrandimento e che cosa invece dire non mi interessa ci metto da parte non voglio neanche entrarci sempre ricordandosi che però noi agiamo e interagiamo costantemente attimo dopo attimo 24 ore su 24 con un ambiente organizzato in un certo modo e vale veramente per tutte le scelte che facciamo certamente non vuol dire che dobbiamo impazzire ogni scelta che facciamo star lì a fare il trattato della Taccani però sicuramente sì sì sicuramente tutto quello che abbiamo intorno e tutto quello che è successo negli ultimi anni porta sempre di più a uno spegnimento della consapevolezza a uno spegnimento del senso critico e quindi di conseguenza far riaffiorare tutto questo è veramente fondamentale per cominciare a capire qualcosa di più perlomeno cominciare a capire qualcosa di più di noi stessi anche perché perdere il senso critico vuol dire perdere il senso di unicità e vuol dire appiattire tutti gli esseri 8 miliardi di esseri 8 miliardi di passi ancora non ci siamo ai passa ma più o meno 8 miliardi poco meno di 8 miliardi appiattiti su un modello o facciamo due o tre blocchi diversi comunque appiattiti su un unico modello altro che unicità qui è l'azzeramento delle unicità che si capisce molto bene è un progetto preciso e si capiscono anche i vantaggi ma quello che dobbiamo fare noi per acquisire consapevolezza invece è far riemergere quella unicità riscoprirla riconoscerla e farla riemergere allora in questo senso si può capire anche qual è il senso di questa presenza in questo film e quindi la domanda non è più tanto la vita mi fa evolvere mi fa degradare ma qual è il senso mio di questa unicità in questo film insomma cosa sto facendo no cosa sto facendo qua no per poter rispondere a questa domanda io devo avere un intelletto molto raffinato e assolutamente non appiattito al modello imperante ma devo risollevare riscoprire e riemergere la mia unicità che tra l'altro io credo che nel momento in cui ci si pongono questo tipo di domande in uno stato un po' di silenzio di ascolto proprio della risposta anche che poi arriva è anche fondamentale poi riuscire anche un pochino a staccarsi da tutto quanto quello che ci circonda e cominciare a credere in tutto questo perché il più delle volte grazie proprio a tutto quello che abbiamo detto fino adesso le identità di cui facciamo abbiamo dei marchi proprio che ci portiamo sin da quando nasciamo e con tutte le cose che facciamo abbiamo sempre questo marchio di questa identità di chi sei e a che cosa appartieni e da dove arrivi e come parli invece nel momento in cui si riesce un po' a scardinare tutto questo e riuscire anche un attimino a mettersi nel silenzio e nell'ascolto forse si riesce anche a capire un pochettino di più la nostra unicità e cominciare ad accettarla perché credo che anche questo sia una grandissima difficoltà in questo momento perché anche chi può avere un sintomo diciamo di ascolto un sintomo di comprensione di unicità alla fine a un certo punto lo perde rapidamente perché non c'è l'accettazione perché siamo tutti talmente portati a essere omologati che la cosa diventa veramente difficilissima da accettare forse c'è una domanda e se magari qualcuno vuole fare domande in questi ultimi minuti esatto così te la leggo anche subito Patrizia da cosa è costituita la nostra unicità sono proprio questo complesso di prerogative che sono intrinseche nell'essere la parte umano del binomio essere umano ha delle caratteristiche due gambe due braccia due occhi un naso due orecchie il fegato la milza il cuore i polmoni e tutte le varie cellule e tutto deve funzionare armonicamente e in maniera equilibrata perché altrimenti insorge quello che viene chiamata malattia che è un disequilibrio che si è creato in questo funzionamento e questa è la parte dell'umano cioè la parte corporea la parte dell'essere funziona allo stesso modo anche se non può essere vista ma possiamo capirlo attraverso l'analogia con il corpo se nella parte dell'essere queste prerogative e queste facoltà per esempio la mente per esempio le caratteristiche personali per esempio l'intelletto non lavorano in sintonia non sono in equilibrio non hanno una collaborazione armonica insorge quella che chiamiamo fra virgolette che ne so depressione rabbia insicurezza sentirsi una vittima avere paura tutte queste fra virgolette malattie non fisiche che poi possono prendere anche sono sempre rabbioso a un certo punto mi viene la gastrite ma quello è un effetto secondario il problema è che io sono sempre rabbioso non che mi è venuta la gastrite se guarisco la rabbia mi guarisce anche la gastrite quindi questa unicità è l'insieme di queste caratteristiche che sinergicamente producono un risultato la nostra personalità chiede Laura la personalità è una parte la mente l'intelletto sono altre due sono facoltà che sono nell'essere la mente l'organo la facoltà che ci permette di pensare e l'intelletto è la facoltà che ci permette di valutare di razionalizzare di discernere di queste 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 diciamo di di fare da filtro anche e di riconoscere di riconoscere il giusto e lo sbagliato in alcune scelte che possiamo fare o in qualcosa che possiamo vedere mentre la mente è più creativa è più immaginativa è più è un po' come dire l'appassionato di matematica è l'appassionato di arte ecco l'appassionato di arte si fa trascinare l'appassionato di matematica invece vuole dei numeri vuole delle prove vuole delle dimostrazioni più precise quindi sono sono facoltà che questo essere ha in sé e la personalità sono tutte le prerogative le capacità le attitudini quello che noi chiamiamo carattere quello che noi chiamiamo le esperienze passate che hanno dato che producono qualche cosa anche nel futuro se ho fatto un incidente in macchina per un bel po' ci avrò paura di andare in macchina quindi queste sono tutte queste prerogative o queste caratteristiche che ci portiamo appresso e la nostra unicità da che cosa è data perché tutti quanti abbiamo esperienze passate un aumento dell'intelletto ma è come si inergono fra di loro come collaborano fra di loro che determina l'unicità e anche il fatto che tutti quanti noi abbiamo avuto esperienze diverse ovviamente già solo il fatto che cresciamo in famiglie diverse certo le esperienze quelle poi che forgia la nostra personalità poi alla fine tornando a quello che dicevamo prima invece del discorso che è l'unicità e bisogna assolutamente avere la capacità di essere critici non giudicanti non confondiamo le due cose che sono completamente diverse ma critici ed è anche una capacità quella dell'accettazione quindi riuscire ad accettare quando hai compreso veramente il fatto che tu sei unico e speciale questo è uno dei tanti aspetti che naturalmente sono fondamentali nel momento in cui io accetto di essere unico e speciale è come far riemergere la propria autostima mentre dire sempre no io sono un poverino un derelitto insomma questo atteggiamento vittimistico mascherato da umiltà che non è assolutamente umiltà non ti permetterà mai di riconoscere la tua unicità e siccome ci hanno insegnato che dire io sono speciale vuol dire essere arroganti ecco qua esatto che noi cominciamo a dire no io sono non sono speciale per niente sono uguale a tutti gli altri faccia schifo eccetera e così ti senti umile esatto e così puoi finalmente affermare di essere umile ma è tutt'altro che umiltà Paolo scrive le rincarnazioni ad ogni vita donano comprensione questa è l'evoluzione altrimenti che senso avrebbe rincarnarsi allora Paolo ti fermo subito perché il prossimo webinar poi siamo anche già alle 9.23 il prossimo webinar sarà proprio sulla rincarnazione sul karma quindi se puoi aspettare esattamente una settimana avremo poi un'ora intera per parlare proprio di questo argomento e a proposito Angela invece dice a proposito di famiglia scegliamo davvero in quale nascere ecco un'altra domanda che penso che forse è meglio che aspettiamo la settimana prossima perché abbiamo fatto proprio questi webinar proprio a tema e come potete vedere questo è bellissimo da parte proprio di Angela e Paola come cresciamo cioè andiamo proprio ad affrontare temi dai più semplici anche se sono molto filosofici a quelli più che andiamo proprio dentro ci approfondiamo tutto il discorso verso tutto quello che è spirituale quindi abbiamo appuntamento con voi la prossima settimana e ne possiamo parlare in maniera assolutamente approfondita anche perché poi gli altri webinar andranno sempre più proprio verso questo senso ecco della rincarnazione il karma e le scelte varie allora invece tornando a quello che è la mia identità il mio ruolo e il significato di essere qui che significato ha essere qui Marina? Lo so che forse mi do una delusione però io non credo che ci sia un significato preciso è proprio un film cioè i film così come non ci chiediamo che significato ha che questo film venga fatto è un film è un intrattenimento quindi quello che noi abbiamo intorno è un intrattenimento non ha un significato particolare possiamo trovargli il significato nel modo in cui noi interagiamo con quello che abbiamo intorno allora forse lì ha un significato in particolare può avere un significato perché il modo in cui interagisco la dice lunga su dove sto chi sono e qual è la mia consapevolezza ma che il film in sé abbia un significato no è un film è un parco giochi uno perché va al parco giochi mica per trovare significato per divertirsi e noi anche noi siamo su qua su questo pianeta meraviglioso pieno di colori pieno di luce pieno di panorami differenti immaginate no dal deserto alle alte montagne alle vallate quanti panorami odori popolazioni colori diversi è tutto un grande intrattenimento come interagisco io quello è mi fa capire dove so dove sono però che significato importante si concludo e che senso do a tutta questa storia è come io interagisco che dà il senso non è che ce l'abbia a priori un significato importante è il ruolo che io ho come attore visto quello rimanendo nell'esempio che facevi è proprio ecco come scrive Laura un gioco di ruolo quindi il ruolo che io ho che attore sono e comprendere il fatto che sto recitando in un film sì ricordandosi sempre che passeggero quindi non gli darei così tanta importanza è un gioco di ruolo sì però è un gioco di ruolo che dura un totta e poi ce n'è un altro di gioco di ruolo quindi io vedo più il senso in come interpreto quel ruolo quindi in altre parole come interagisco con l'ambiente come interagisco come interpreto quella parte se io sono vi faccio un esempio estremo per capirlo bene se qualcuno ha la parte di essere un assassino e di prendere un mitra e di far fuori 400 40 persone quello lì è il suo ruolo nel gioco di ruolo lo so che è un esempio estremo ma è provocatorio apposta lui lo sta interpretando bene il suo ruolo è il nostro attaccamento che ci impedisce di capire che lui sta facendo un ruolo è il nostro giudizio morale questo non vuol dire che dobbiamo andare mi raccomando è un esempio che faccio per estremo per far capire proprio bene com'è la storia o prendiamo un esempio un po' più positivo sì meglio no ma questo rende bene l'idea capito perché sul positivo sicuro tutti quanti l'accettano se io sono madre Teresa di Calcutta vado a fare del bene ai poveretti e interpreto benissimo il mio ruolo e lì tutti brava brava perché vai a fare la missionaria ma quello se sei un assassino tanto brava non sei certo lo so però sono due ruoli che sono due ruoli è tanto un ruolo quanto madre Teresa è tanto un ruolo contro il serial killer poi vedremo la prossima volta come ci mette lo zampino il karma e cosa succede a chi interpreta quel ruolo e a chi interpreta un altro ruolo ma tutti e due sono ruoli è questo distacco che dobbiamo prendere per capire veramente cosa ci succede intorno questo non significa che dobbiamo applaudire il serial killer sia ben chiaro ma capire e vedere che anche quello è un ruolo così come il missionario questo è il grande passo da fare questo è veramente il grande passo da fare Antonella chiede allora come si può gestire l'ansia beh adesso questo ci porterebbe un po' fuori tema però secondo me affrontando il discorso della rincarnazione del karma lo possiamo infilare il discorso dell'ansia anche secondo me la prossima volta e poi comunque in qualsiasi caso anche questo Antonella può essere un momento del tuo ruolo se l'ansia è tua in questo caso qui o di chi hai di fianco o di chi hai vicino può essere anche quello un momento in cui l'ansia in questo momento è una delle cose che hanno più al mondo probabilmente le persone ansia preoccupazione e paura perché perché in questo momento ci stanno tutte queste cose che ci sono accadute negli ultimi anni e che ci stanno accadendo in questo momento quindi di conseguenza l'ansia è qualche cosa che sta prendendo un fortissimo posto però anche lì andare a capire l'ansia è paura senza soggetto quindi praticamente andare a capire perché ho paura e quindi perché poi dopo si monta l'ansia si crea l'ansia quindi anche questo può essere un motivo di guardarsi dentro ascoltarsi e accettare qualche cosa che probabilmente non è chiara che tipo di paura ho una buona ricetta quella è sempre la stessa cioè anche solo pochi minuti mantenere questa consapevolezza molto forte che io sono in una realtà virtuale sono in un film tridimensionale quindi di cosa devo aver paura un film proprio mantenere questo pensiero nella mente perché l'ansia è un'emozione che alloggia nella mente diciamo così se io sostituisco in quel momento l'ansia con un pensiero che è vero perché è vero e che è un balsamo per l'ansia anche soltanto un minuto perché poi l'ansia ha il sopravvento di nuovo poi fra dieci minuti un altro minuto fra dieci minuti un altro minuto alla fine piano piano questo questa comprensione che io sono in un film tridimensionale acquisisce più forza e l'ansia perde potere è quel gioco di cui parlavo prima quelle quelle onde di cui parlavo prima o c'è l'ansia o c'è la consapevolezza di essere in un film in alcuni momenti emerge l'ansia in altri momenti emerge la consapevolezza ma io devo aiutarla questa consapevolezza a emergere certo la meditazione è sicuramente un ottimo medicamento per l'ansia allora Patrizia dice come vengono assegnati i ruoli anche questo lo vediamo col karma e Antonella ancora è qualcosa che arriva prevalentemente di notte mentre dormo infatti è proprio paura l'ansia è proprio paura senza soggetto quindi cerca di prendere un attimino del tempo per capire veramente che paura hai accettarla comprenderla e sostituirla come diceva Marina prima con un altro pensiero questa è proprio la meditazione ti può aiutare tantissimo tantissimo comunque la prossima volta adesso sono già ai 9.33 la prossima volta sicuramente questi discorsi con il discorso reincarnazione e karma torneranno fuori assolutamente sì ok allora grazie di tutto Marina veramente grazie a voi di avermi invitata rapidissima questa oretta grazie a tutti voi e ci vediamo giovedì prossimo ci vediamo giovedì prossimo alle 20.30 e affronteremo proprio karma rincarnazione e tutto quanto questo tipo di insomma oddio non mi viene la parola di tematiche tematiche qui ecco bravo perfetto grazie mille a tutti buona serata e buonanotte ciao Marina grazie grazie a tutti ciao 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 ciao